salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente è arrivato il giorno di fare un vero test della fotocamera del power x questo drone uovo che vi sto portando adesso sul canale perché secondo me ha caratteristiche veramente particolari e che a me piacciono davvero tanto mancava di fare un cinematic video quindi di metterlo alla prova dal punto di vista della qualità della fotocamera e finalmente è arrivato quel giorno poi mancherà solo di fare un video sotto la pioggia ma quello ancora non arriva quindi sperando che arrivi la pioggia in futuro oggi facciamo un bel cinematic video in questa location fantastica siamo a lierna in provincia di lecco sul lago di como location che potrà dare l'idea veramente della qualità o meno di questa fotocamera quindi adesso senza perdere l'altro tempo decolliamo qua a lierna sul lago di como con il power e geeks a 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti